Buonasera dal gruppo degli artisti irpini, ci troviamo sempre a Rocca San Felice, in occasione di Rocca Scena dalla Valle dell'Inferno alle vie del Medioevo, rassine di rarità e gastronomiche locali, tutto a partire dalle 18, vedremo se oltre a vedere un po' di revocazione medievale faremo anche una carrellata di prodotti tipici irpini e avremo modo di intervistare qualcuno della Proloco di Rocca San Felice. Buonasera dal gruppo degli artisti. 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 Grazie